Ciao, astronomici! L'Eagle computer permette di usare i vostri dispositivi preferiti e il software Windows senza limitazioni, come un computer Windows standard, ma viene con alcuni avventi e caratteristiche. Uno di questi è che l'Eagle viene con un casco specialmente designato che è incredibilmente rigido e che propone molti fili trattati per connessi facilmente con il tuo telescopio. In effetti, abbiamo disegnato l'Eagle come un elemento strutturale, come un piatto dottile, quindi che può essere facilmente collegato a ogni OTA o montaggio. Non solo questo permette di migliorare il gestione di cable, ma anche il rigidità di sistema. Come potete vedere in questo telescopio, l'Eagle può essere installato sotto un telescopio, che può supportare fino a 8 kg, tra i supporti di rinchi e la barra dottile. Questo è un ottimo modo di integrare l'Eagle computer in telescopi, specialmente se hai un compatore o un astrograph. Come potete vedere, hai molti USB e power ports molto vicino alla parte del telescopio, solo dove normalmente hai molti dispositivi come focuser, rotator, camera e guide camera. Per altri contenuti che ti aiutano a esplorare l'Universo come un pro, iscrivetevi al nostro canale e... CLEARS GUYS!